Oggi andiamo in giro per Torino e vi facciamo domande tema San Valentino Oh, siamo carichi Ok, oggi domanda tema San Valentino Io vado con due domande facili Uno, cos'è l'amore per te? Aiuto, allora, intesa, fiducia, divertimento, tante cose Però è una ragazza fortunata perché hai detto cose tutte belle Boh, e io non posso dirlo Scrivete l'amore in tre parole Imprescindibile Un amore totalitario Un amore infinito Ed è quello che provo per lei, che è mia figlia È un amore assoluto Si vede la maturità delle descrizioni, cambia tantissimo, mi piace Sei il primo che intervisto, sono emozionata anch'io Wow Esiste il sesso senza amore o viceversa? Sì, esiste il sesso senza amore Ci si può chiedere, ha senso fare sesso senza amore? Questa è la domanda Applauso, applauso Post-produzione, applauso Viceversa, sì, esiste E secondo me però manca di una parte, manca di una parte importante Esiste il sesso senza amore e l'amore senza sesso? Sì Entrambi? Sì Ok, perfetto E si può amare senza sesso e il sesso senza amore? Assolutamente sì Arriva un momento della vita, sì, però adesso non tutti riescono Per me sì, però capisco chi non ce la fa Dai, ultima domanda e poi ti lascio andare perché ti vedo in imbarazzo Va bene, va bene, sono il grosso della giacca Dai un bacio o saluto a una persona che ami? Ok, do un bacio al mio cane e alla mia ragazza, Sofia Ed è anche la persona che amo, quindi saluto lei Ciao Sofia Ciao Grazie, è stato un piacere San Valentino, domanda a tema amoroso Sei pronta? Sì Che cos'è per te l'amore? La definizione non te la so dare Posso dare un'immagine di quello che è per me l'amore Quindi per me tante cose Rispetto, esserci sempre, aiutarsi Tre parole per descrivere l'amore Casinato, bello, non ce l'è Una vita insieme Bella questa Sempre belli, due parole, sì Libero, puro e folle Credete nell'amore a prima vista? Assolutamente sì Sì, sì, senza dubbio Credi nell'amore a prima vista? Sì, assolutamente sì Ho guardato qualcuno perché c'è l'amore a prima vista No, no, no Vi ho parlato di questo oggi per questo Ma davvero? Qualcuno si è innamorato a prima vista di voi? Sì, lui sì Sì, sì Rispondo io per lui, sì Il gesto d'amore che ti piace dare e ricevere? Anche un fiore Perché io amo i fiori Al mattino quando ti svegli Il gesto d'amore che ti piace dare e ricevere? Quando le persone mi abbracciano e quando abbraccio le persone Ma in modo genuino Non forzato No, proprio un abbraccio di quelli sinceri Proviamo a chiedere a loro due Ma... Interessante Ma dai Credi nell'amore a prima vista? Sinceramente no, perché secondo me devi conoscere prima una persona Almeno frequentarla prima di innamorarti veramente di lei Quindi sì, magari a prima vista ci potrebbe essere interesse Però no, un amore proprio sincero Credi nell'amore a prima vista? Sì Esiste il sesso senza amore? O viceversa? Sì Sì No Non esiste il sesso senza amore Anche io sono di quella scuola, posso dirlo Siete innamorate? Sì Sì Si può dire di sì Fate un saluto o date un bacio a chi volete Ciao Ciao mamma Grazie ragazze Ciao Cantate la prima canzone d'amore che mi viene in mente Ti amo Non la so dove Cantate la prima canzone d'amore che mi viene in mente Odio le canzoni d'amore Come è bello far l'amore da Trieste in giù Ho risposto per lei Cantate la prima canzone d'amore che mi viene in mente No, è troppo da bove Ma la prima, la prima Vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi Che è quella che ha sempre cantato allora Sei la nazionale del 2006 Ma dentro casa col vestito da sposa È libero, puro e folle Credete nell'amore a prima vista? Assolutamente sì Sì, sì, senza dubbio La prima canzone d'amore che ti viene in mente È quella sua maglietta fina Tanto stretta al punto che Mi immaginavo tutto Che non gliel'avevo mai Ma io ci andavo matto Essere nudi un bacio a labbra sarà Quella tua maglietta grigia Passerotto non andare via Ciao ragazzi, stiamo facendo un video YouTube Posso farvi alcune domande? Vai, grandi Si può amare più di una persona? Contemporaneamente Dipende da che amore Questa ci torniamo Contemporaneamente no, non contemporaneamente sì Io amo o poi li amo tutti e due? Si può amare più di una persona? In modi diversi sì Canta una canzone d'amore Una che vi conta la mia mamma Vai Parlami d'amore Lulu Tutta la mia vita sei tu Gli occhi tuoi belli brillano Il gesto d'amore che ti piace più dare? Una sorpresa Anche una sorpresa Sorpresa anch'io E quello che ti piace ricevere? Una sorpresa Anch'io Una rosa Vai, cantaci una rosa blu La conosce la rosa blu? No Ma me, è una rosa blu di tre anni Vabbè, che ne so Magari la conosceva lo stesso E' una rosa blu E ma quando andava tutta a gonfie vele A quei momenti lì Quando andava tutta a gonfie vele Vi ringrazio Grazie a voi Grazie, ciao 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 L'amore in tre parole Rispetto, allegria, realtà Possessi descrivere l'amore con tre parole? Oh, è difficile per me La rosa blu La contattazione Buona comida Salute e un bacio a una persona che ami Ciao Gioia, ciao Vincenzo Vi faccio qualche domanda Credete nell'amore a prima vista? Sì Abbastanza Sì No Sì Uscrivetevi l'amore in tre parole Rispetto Lei Passione Fedeltà Ma fiducia Puro Descrivetemi l'amore in tre parole Fedeltà Rispetto Sincerità Un gesto d'amore che vi piace dare e uno che vi piace ricevere Mettere tutte le candele davanti al corridoio e fare una strada di luci e tutti i petali di rose sul letto Questa dare e ricevere? Dare Mi piace fare i regali e ricevere le lettere Ah, io ci penso Allora, fare, cucinare, qualsiasi cosa che ti ho preferito così E ricevere per me asciugare i capelli Mi sono un sacco Sì Organizzare un viaggio all'insaputa Da Puoi partire così Ci sta, ci sta La prima canzone d'amore che vi viene in mente Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Come continua? Non lo so Salutate, ho dato un bacio a qualcuno che amate Ciao mamma Ciao Ciao Sei innamorato? Trovo troppo convenzionale il senso che lo si attribuisce Posso autodescrivermelo dentro di me senza necessariamente trovargli delle parole Ok Siete innamorate? No, no Lo siete mai state? No Che bugiardo No Lo siete mai state? No No Io sono innamorata di tante cose Non per forza dire sono innamorata significa essere innamorata del proprio partner Ma sono innamorata di tante cose come della vita, come di me stessa, come dei miei fratelli, di mia madre, dei miei amici e quindi sì, sono innamorata Are you in love? Yes, I am in love with my wife Can you sing a love song? Oh, in French? No, no Not a good singer Ah, ok Ah, merci, merci Bye L'amore in tre parole Attenzione, fiducia Rispetto Sei innamorata? Innamorata? Sì 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 Posso arrivarvi due minuti Comande tema San Valentino Scrivi l'amore in tre parole Star bene Trovarsi bene Star bene con un'altra persona, trovarsi bene Complicità Complicità, sì Va bene, grazie Puoi tenerlo tu Ah, ok Allora Cantate la prima canzone d'amore che vi viene in mente Canta Non è d'amore Va bene, se la dedichi a qualcuno diventa d'amore Beh, eh Il gesto d'amore che vi piace di più dare e ricevere Ricevere un sasso Ok E dare, non la so, un abbraccio Mmm, ricevere un abbraccio Dare un abbraccio Creativa Mi lo spieghi il sasso Ma ti puoi pinguini? Sì, pinguini Ma il sasso è per tirarlo in testa? No, è per i pinguini Che se lo scelgono nella spiaggia Sì, è troppo bello Quindi però vuoi che uno se te lo dà Sceglierlo Quello tuo Sì, mio, mio Non è che raccogli un sasso se te lo dà Un sanpietrino Va bene, ma Va bene Va bene, è duro È importante il sasso Salutate, ho dato un bacio Ciao, bacione A qualcuno che amate Non ti dico niente Manca la mamma Ciao mamma Sì, sorridi, sorridi Sorridi in camera Saluta a tutti Saluta chi ami Ciao mamma Saluta a tutti